Il ruolo della unità operativa di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro dell'azienda di Bologna è quello di effettuare della vigilanza nell'ambito della cantieristica edile proprio rivolta al mantenimento, al rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Ecco, nel 2022 sono stati controllati nella provincia di Bologna 910 cantieri circa, è un rilascio di circa 250 prescrizioni e quindi una presenza comunque di una percentuale non trascurabile di regolarità e tra queste prescrizioni quello che spicca è che circa il 30-35% sono legate a delle non rispetto della normativa di sicurezza relativamente alle opere provisionali, quindi ai ponteggi. Ora siamo con dei livelli di sicurezza su aspetti che dovremmo dare per scontati che non sono ancora ottimali. È necessario comunque da un lato intensificare i controlli e continuare i controlli, ma dall'altro è anche necessario rendersi conto che fino a quando c'è un aumento della sensibilità da parte anche dei datori di lavoro, un aumento complessivamente della cultura della sicurezza, è evidente che non riusciremo a raggiungere un risultato ottimale solo legato ai controlli degli enti spettiglia.